Io so che lei vuole fare un ringraziamento per questo telegatto che lei ha ricevuto, e perché l'ha scritto? Dice che ha una cattiva memoria, lo fa in inglese il ringraziamento. Vorrei dirvi che è un grande onore ricevere questo premio. Questa è la voce italiana di Robert De Niro. Io sono sempre felice di venire in Italia e di ricevere un benvenuto così caldo come questo. Grazie. Lui ha detto solo grazie. Lei conosce chi la doppia in Italia? Sa chi è, vero? La doppia, sì, esatto. Come si chiama? Ferruccio? Oh, Amendola. Yeah, Amendola, yes, Amendola. Ferruccio Amendola. Ferruccio Amendola. Può venire qua, Ferruccio Amendola? Ah, sì. Quante volte vi siete incontrati? Mai. Mai? È la prima volta che vi incontrate? Sì, sì, è la prima volta. Però posso dire di conoscerlo profondamente lui stesso. Certamente sì. Lui è molto bravo a doppiarla. Sì, sì. Le dà grandissimo feeling e veramente anche un grande attore. Sì, ma è lui quello bravo. Eh, questo non lo mettiamo in dubbio. È un po' di più. Sì, ma è un po' di più.